Nel nome della Beata Vergine Maria iniziamo questo nuovo anno del Signore, un anno civile ed è sempre un motivo per guardare avanti nel segno della gioia, della pace e della speranza. Bentrovato Padre Ernesto, buon anno! Eh, shalom uberak alechem, pace e benedizione a tutti quanti voi, perché oggi inizia il nuovo anno civile. Però per noi cristiani noi abbiamo terminato con la meravigliosa Domenica della Santa Famiglia, con Maria Giuseppe e Gesù Bambino e la ritroviamo oggi, perché la festa di Maria, Madre di Cristo, nostra pace, ci ricorda che cosa? Ci ricorda che noi dobbiamo fare come i pastori, i quali sono andati alla mangiatoia, visto che hanno avuto quel segno. Abbiamo parlato della contemplazione domenica scorsa e tu stessa hai detto che dovremmo avere gli occhi di incanto, quindi guardare gli incanti che il Signore ci mette. Beh, è quello che è l'esperienza dei pastori, immergere lo sguardo del cuore in quel Dio bambino che ha voluto condividere tutto con noi, uguale a tutti quanti noi, semplice. Come può essere bello un bambino che nasce, una bambina che nasce. Lui è come noi, ha condiviso tutto eccetto il peccato, altrimenti non avrebbe potuto salvarci. Lui è il vero uomo, l'unico vero uomo in cui noi dobbiamo specchiarci. Lui è venuto per aiutarci a crescere nell'umanità, per cui è davvero interessante. Oggi ritorniamo nei Vangeli dell'infanzia in Lucca, siamo nel capitolo 2 di Lucca. Dopo le parole dell'angelo si apre il cielo e gli uomini possono assistere a questa liturgia celeste che si svolge sopra questo bambino. E a questa liturgia celeste, dischiusa dall'annuncio, che ne dà poi l'interpretazione, c'è una liturgia terrestre. Che bello! In cielo gli angeli insultano, sulla terra la gente più povera, più obbedienta alla parola, quelli che sanno avere l'incanto di capire che in quel bambino, uguale a tutti gli altri, lì c'è il mistero di Dio. Il Signore si è rivelato in quel bambino. Quel bambino che nasce dall'annuncio, da quell'oggi della salvezza. Ed è una chiesa che Luca presenta, fatta di poveri, di ultimi. Sono gli ultimi che accolgono l'annuncio dell'angelo e che in forza della fede vanno, fanno esperienza e poi ritornano per annunciare e glorificare e lodare Dio. Ma non dimentichiamo che quando Luca scrive, alla fine degli anni 70, lui parla anche ai pastori della Chiesa. Sono i pastori della Chiesa oggi che dovrebbero sentirsi anche chiamati come i pastori di Luca a contemplare il Signore. Altrimenti che cosa potranno dire agli altri? Ecco che oggi lo dico ai miei fratelli vescovi e sacerdoti, a tutti i ministri del Vangelo, ai diaconi, ai consacrati, se non facciamo esperienza di Dio, che cosa portiamo agli altri? Questa è la verità immensa del Natale. Dio facendosi carne, come dice il quarto Vangelo, scendendo nella storia, dall'interno vuole operare l'umanizzazione di tutti quanti noi. La storia di Natale, l'abbiamo detto più volte e lo ripetiamo anche oggi, ha dei registri particolari, il registro dell'umiltà soprattutto, mettendo sotto giudizio ogni logica imperialistica, il fanatismo religioso, il dominio, l'egoismo che davvero imbratta le nostre comunità a volte. Maria e i pastori invece oggi ci vengono messi davanti come l'icona di chi è conforme all'opera di Dio. Non il servilismo o l'obbedienza cieca, ma sono un modello di una fede attiva. Maria non partecipa alla salvezza come mediatrice, né è il paradigma della donna umile, verrà come Abramo, Maria è il tipo del credente, come Giuseppe è l'uomo giusto che si affida a Dio. La fede di questi personaggi è doppiamente attiva, comprende e prova nella propria carne quello che crede. Vivono, lo stesso Giuseppe è un facitore della volontà di Dio, io lo chiamo così, e Dio agisce attraverso di loro, attraverso le situazioni umane e ci porta alla fede, attraverso la parola dei suoi testimoni, chiamando noi ad essere testimoni di pace, costruttori di pace, come diceva San Francesco del Sisi. La pace bisogna farla, come dice l'ultima beatitudine, ma cari ho i pojuntestem e i rene, quelli beati, quelli che fanno la pace, la pace si fa. Per cui i pastori ci indicano la via, ascoltano la voce degli angeli, si incamminano con prontezza, con sollicitudine e contemplano questo Dio che è nato nella storia. Come i primi discepoli sono diventati da pescatori di pesci, pescatori di uomini, così in questi pastori noi dobbiamo guardare oggi i pastori nella Chiesa di Dio. Questo devono essere i pastori umili che hanno fatto esperienza di Dio, che tornano e annunciano con gioia, con carisma, davvero quell'esperienza forte che hanno fatto. I pastori davvero dovrebbero fare proprio quel monito di Giovanni, ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre mani hanno toccato, le nostre orecchie hanno sentito. Un pastore che non vive così non è più un pastore, ma un mercenario, direbbe il nostro Giovanni, che poi fa eco nei grandi discorsi di Sant'Agostino. Gesù ha scelto la strada più semplice, quella che ci accomuna tutti. Tutti siamo venuti al mondo da una mamma, tutti siamo un prodigio, perché la vita è un dono per tutti, non l'abbiamo guadagnata. Noi stessi siamo un dono e spesso ce ne dimentichiamo. Oggi contemplare Gesù bambino, Maria e Giuseppe all'inizio dell'anno civile significa pure come i pastori contemplare questo segno di un Dio che si è fatto bambino, che entra nella fedelità della storia e ogni giorno dovremmo raccontarlo, glorificare il Padre per le meraviglie che ci fa vivere e ci fa gustare. Chiamate a essere testimoni. Lungo questo cammino io oggi consiglio alle nostre amiche e ai nostri amici tre grandi doni da portare nella nostra bisaccia da migranti. La solitudine, perché chi non sa stare da solo non sa stare con gli altri. Il silenzio adorante in un mondo dove c'è solo chiasso e c'è solo chiacchiericcio è questa libertà interiore. Tre grandi doni, solitudine, silenzio adorante, libertà. Perché vincere l'idolatria dentro di noi è capire che non possiamo scambiare il mezzo per il fine. Quando noi lo facciamo diventiamo degli idolatri. Ecco perché dobbiamo accogliere la solitudine, che non è isolamento. Accogliere il silenzio adorante, che non è mutismo. Accogliere la libertà, che è fare quello che si deve, non libertinaggio. È così che noi scopriamo la relazione, non solo con Dio, ma col fratello. E nel silenzio, ce lo diceva Paolo domenica scorsa, abiti la parola dentro le nostre famiglie, dentro di noi, che ci educa. E nella libertà impariamo a scegliere il bene, sempre. È libero non chi fa quello che vuole, ma è libero chi fa quello che deve, perché tutto posso anche in colui che mi dà forze. Maria oggi è la nostra attenta madre maestra. Ci sono dei verbi che vorrei alla fine sottolineare. Luca è veramente un pittore in questo senso. Ha la capacità di descrivere con le parole la bellezza di questa donna. Maria ci insegna a conservare con cura. Il verbo greco è siuntereo, il tenere insieme, il mettere insieme. Poi c'è questo siunballo, la parola che dentro di noi ci agita e ci insegna a valutare, a interpretare. È l'atteggiamento di chi credente ricorda. Conserva nella memoria le azioni e le parole che Dio ci offre. Non è un ricordo ormai consegnato al passato, ma è una presenza, continua nel proprio cuore, in questo centro volitivo, intellettivo, decisinale. La fede ci viene messa dentro. Maria ci insegna oggi a lasciarci prendere dagli eventi divini, a viverli nel profondo quotidiano. Sì, davvero, Dio si è fatto carne. La sua venuta non è una sorta di unione mistica, ma lui è entrato proprio nelle maglie della storia e i segni posti da lui possono essere chiari solo alla luce della parola. Ecco Paolo domenica scorsa, la parola di Dio dimori fra di voi. Si profila dunque un itinerario ecclesiale oggi, all'inizio dell'anno civile. L'annuncio dei testimoni porta all'ascolto e l'ascolto porta ad avere gli occhi aperti sull'opera di Dio. Chiunque ha fatto davvero esperienza del Signore, di questo Gesù bambino, di questa santa famiglia, poi viene spinto ad annunciare dalla forza dello spirito e così si tratteggia la dinamica missionaria della Chiesa. Siamo oggi all'inizio dell'anno civile e io vorrei augurare davvero a tutte le nostre amiche e i nostri amici che sentano questa spinta ad andare verso gli altri. La Chiesa, come dice sempre Papa Francesco, è extravertita, è stata mandata fuori, deve uscire fuori, deve andare verso gli altri, deve mischiarsi con gli altri e noi dobbiamo annunciare questa potenza della fede dentro di noi, non con l'orgoglio, ma nell'umiltà della testimonianza, dell'essere fedeli alla volontà di Dio, di costruire la pace in un mondo dove ci si arma sempre di più. Possa il Signore davvero portare pace al mondo intero e noi oggi per questo, una giornata anche della pace all'inizio dell'anno civile. Vogliamo pregare per tutti i popoli oppressi, per tutte le donne uccise e martoriate, per tutti i bambini che facciamo morire e non facciamo nascere, per tutta questa violenza. Signore, aiutaci a costruire la pace oggi e ogni giorno dell'anno. Bello, grazie Padre Ernesto, anche perché questo diventa stimolante a livello spirituale, umano, sociale, politico ed economico, proprio questa giornata dedicata alla pace. Certo, hai ragione, che il Signore davvero ci aiuti, perché poi anche la famiglia, lo dicevamo domenica scorsa, è il luogo dove si costruisce l'uomo, si costruisce il cittadino ma si costruisce anche il cristiano e quindi è importante che le nostre famiglie siano un laboratorio della parola, come diceva Paolo. È l'augurio che facciamo anche alla nostra teleradio Padre Pio, che sia un laboratorio di esperienza della parola, perché fare televisione cattolica significa sperimentare la potenza della parola. Fossa Padre Pio, che è il nostro protettore, ricordarci sempre quella povertà. Sinon satis memento paopertatis. Nei refettori di tutti i frati cappuccini c'è sempre questa frase, se non sei sazio ricordati della povertà, perché oltre la tua fame c'è la fame del fratello che ti è vicino. Dobbiamo imparare a condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo, solo così siamo fedeli davvero al Vangelo. Grazie, noi andremo avanti in questo nuovo anno con lo zaino carico di quegli ingredienti che tu stesso ci hai indicato nella puntata, diciamo, nella nostra chiacchierata. Grazie ancora e alla prossima puntata, insomma, alla prossima puntata. Buona Pasqua della settimana e direi anche buon anno civile. Grazie, ricambiamo tutti con affetto. Shalom. Buona pace. Shalom. Grazie.